Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Maria De Filippi, l'incontrastata regina di Mediaset, ha finalmente svelato chi prenderà il suo posto, suscitando non poca agitazione tra i suoi fedeli spettatori. È risaputo che Maria, con la sua classe e professionalità, ha superato di gran lunga altre stelle della TV come Barbara D'Urso. Ma chi sarà in grado di reggere il confronto quando deciderà di ritirarsi? La risposta è finalmente arrivata, direttamente dalle parole della stessa De Filippi. Conduttrice di programmi iconici come Uomini e Donne, Amici, C'è posta per te e Temptation Island, Maria De Filippi ha saputo conquistare il cuore degli italiani con il suo stile inconfondibile. La sua capacità di essere sempre equilibrata, intelligente e autorevole le ha permesso di mantenere una posizione di vertice nel panorama televisivo. Nonostante l'apparente severità, Maria è conosciuta per la sua generosità, offrendo spesso opportunità di lavoro ai giovani partecipanti dei suoi show. Durante la recente presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha svelato una notizia che ha fatto discutere. Un nuovo programma dedicato agli ex concorrenti di Amici vedrà la luce, e Maria De Filippi ha indicato Silvia Toffanin come sua erede. Secondo il settimanale Mio, la De Filippi ha dichiarato che vede in Toffanin la sua unica e degna sostituta, aprendo così la possibilità che un giorno la conduttrice di Verissimo possa gestire l'intero pacchetto di programmi di Canale 5. Pier Silvio Berlusconi ha confermato, Maria De Filippi ha scelto la sua erede, Silvia Toffanin. Il passaggio di testimone avverrà nella prossima stagione televisiva, e potrebbe segnare l'inizio di una nuova era per la televisione italiana. L'annuncio ha sollevato domande, sarà Silvia Toffanin all'altezza di portare avanti l'eredità di Maria De Filippi? Riuscirà a fare giustizia al lavoro e alla reputazione della conduttrice più amata d'Italia? Solo il tempo lo dirà, ma una cosa è certa, i fan seguiranno ogni passo con grande attenzione. Cosa ne pensate? A voi i commenti! Iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie 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 Grazie